Ciao a tutti e benvenuti. Oggi scopriremo la vita e il lavoro di Rossano Gattarossa, un campione italiano di canottaggio. In questo video parleremo della sua carriera sportiva, della sua vita personale e di alcune curiosità interessanti. Pronti? Iniziamo! Rossano Gattarossa è nato a Pisa nel 1980. Fin da giovane ha mostrato una grande passione per lo sport, in particolare per il canottaggio. Ha iniziato ad allenarsi con il Remo quando aveva 12 anni e da allora non ha mai smesso. La sua dedizione e il suo impegno lo hanno portato a diventare uno degli atleti più forti nella disciplina del canottaggio. Gattarossa ha partecipato a molte competizioni nazionali e internazionali, rappresentando l'Italia con orgoglio. Ha vinto diverse medaglie e ha sempre dato il massimo in ogni gara. Una delle sue vittorie più importanti è stata ai campionati europei, dove ha conquistato la medaglia d'oro nel 2015. Una curiosità interessante su Rossano è che ha una routine di allenamento molto rigorosa. Ogni giorno si allena per molte ore, sia in acqua che in palestra. La sua determinazione e disciplina sono un esempio per molti giovani atleti. Oltre al canottaggio, Rossano ha una grande passione per la natura. Ama passare il tempo libero esplorando i parchi naturali e facendo escursioni. Ha detto che la natura gli dà la pace e la tranquillità di cui ha bisogno per concentrarsi e ricaricarsi. Un altro aspetto interessante della vita di Rossano è il suo impegno nel sociale. Collabora con diverse associazioni che promuovono lo sport tra i giovani e organizza eventi per avvicinare i ragazzi al canottaggio. Crede fermamente che lo sport sia un ottimo strumento per insegnare valori come il rispetto, la disciplina e il lavoro di squadra. Nonostante i suoi numerosi successi, Rossano è una persona molto umile e sempre disponibile a condividere la sua esperienza con gli altri. Ha tenuto molte lezioni e workshop per giovani atleti, trasmettendo loro la sua passione per il canottaggio e i segreti del suo successo. Spero che questo viaggio nella vita di Rossano Gattarossa vi sia piaciuto. Se avete altre curiosità su questo straordinario sportivo, lasciate un commento qui sotto. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per altre storie affascinanti. Grazie per aver guardato e alla prossima! Ciao a tutti e benvenuti! Oggi scopriremo la vita e il lavoro di Rossano Gattarossa, un campione italiano di canottaggio. In questo video parleremo della sua carriera sportiva, della sua vita personale e di alcune curiosità interessanti. Pronti? Iniziamo! Rossano Gattarossa è nato a Pisa nel 1980. Fin da giovane ha mostrato una grande passione per lo sport, in particolare per il canottaggio. Ha iniziato ad allenarsi con il Remo quando aveva 12 anni e da allora non ha mai smesso. La sua dedizione e il suo impegno lo hanno portato a diventare uno degli atleti più forti nella disciplina del canottaggio. Gattarossa ha partecipato a molte competizioni nazionali e internazionali, rappresentando l'Italia con orgoglio. Ha vinto diverse medaglie e ha sempre dato il massimo in ogni gara. Una delle sue vittorie più importanti è stata ai campionati europei, dove ha conquistato la medaglia d'oro nel 2015. Una curiosità interessante su Rossano è che ha una routine di allenamento molto rigorosa. Ogni giorno si allena per molte ore, sia in acqua che in palestra. La sua determinazione e disciplina sono un esempio per molti giovani atleti. Oltre al canottaggio, Rossano ha una grande passione per la natura. Ama passare il tempo libero esplorando i parchi naturali e facendo escursioni. Ha detto che la natura gli dà la pace e la tranquillità di cui ha bisogno per concentrarsi e ricaricarsi. Un altro aspetto interessante della vita di Rossano è il suo impegno nel sociale. Collabora con diverse associazioni che promuovono lo sport tra i giovani e organizza eventi per avvicinare i ragazzi al canottaggio. Crede fermamente che lo sport sia un ottimo strumento per insegnare valori come il rispetto, la disciplina e il lavoro di squadra. Nonostante i suoi numerosi successi, Rossano è una persona molto umile e sempre disponibile a condividere la sua esperienza con gli altri. Ha tenuto molte lezioni e workshop per giovani atleti, trasmettendo loro la sua passione per il canottaggio e i segreti del suo successo. Spero che questo viaggio nella vita di Rossano Gattarossa vi sia piaciuto. Se avete altre curiosità su questo straordinario sportivo, lasciate un commento qui sotto. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per altre storie affascinanti. Grazie per aver guardato e alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!